Se vi dicessi che esiste un telefono che ha superato i confini del cosmo, che ha superato la velocità della luce, che ha percorso migliaia di chilometri e chilometri, un telefono proveniente dal pianeta rosso, un telefono proveniente da Marte, se vi dicessi che questo telefono esiste, voi mi credereste? Preparatevi ragazzi, perché quest'oggi state per vedere un telefono in edizione limitata, un telefono che già nella sua versione originale è qualcosa di incredibile, ma che in questa versione raggiunge lo spazio, e non è solo un modo di dire. Prima di portarvi con me, in questa avventura galattica, sul pianeta rosso, vi invito a distruggere il pulsante dei mi piace, superiamo i 4000 mi piace, per l'unboxing di un altro dispositivo tecnologico incredibile, come quello di oggi. Siete pronti a vederlo? Ecco qui, il telefono di Marte. Oh cazzo, non la far vedere questa, ho distrutto l'atmosfera. Come potete leggere dalla confezione ragazzi, si tratta del Redmi Note 10 Pro, un dispositivo davvero interessante venduto ad un prezzo a dir poco eccellente. Potete ammirarlo nella sua edizione limitata, un'edizione ispirata a Marte. E beh, quando apriremo la scatola capirete il perché. Fatto sta che questa è senza dubbio la scatola più bella mai creata per un telefono. Davvero ragazzi, è qualcosa di bellissimo. Ma adesso... Ma adesso... Grazie a tutti. Ma ora... Veniamo a lui. Ragazzi, siete pronti? Ok, non so se il colore rende attraverso la fotocamera, ma si tratta di un colore bronze gold. Che è una cosa pazzesca, anzi oserei dire spaziale. È davvero bellissimo, questi bordi lucidi sono qualcosa di assurdo. Si tratta infatti di un colore davvero singolare che, beh, non si vede spesso su un telefono, anzi non si vede praticamente mai in questo modo. Rende il telefono, questo colore in questa edizione limitata rende il telefono davvero unico. Adesso accendiamolo. Il Redmi Note 10 Pro, ragazzi, è un dispositivo davvero molto interessante. Il suo prezzo parte da 269 euro e per quello che può offrire è veramente un prezzo eccellente. Abbiamo un display da 6.67 pollici AMOLED. Il sensore di impronte digitali è posto lateralmente. Ovviamente non poteva mancare uno sfondo in stile Marte. Marte. Frequenza di aggiornamento super mega fluida a 120 Hz, quindi beh, tanta roba. Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 33 Watt. E reparto fotografico, beh, davvero da paura per questo prezzo. Sensore principale da 108 megapixel. Abbiamo anche un ultra grand'angolo, una fotocamera telemacro e un sensore di profondità. Ma adesso diamo un'occhiata a un video in 4K realizzato con questo gioiellino. Mio Dio, quanto è golden! Lo amo! È bellissimo. Come potete vedere, ragazzi, spettacolari le riprese in 4K. Per non parlare anche della fotocamera, in realtà, abbiamo un sensore per fare le foto macro che è qualcosa di assurdo. Cioè, vi basta guardare quest'uovo e la foto che ho fatta qui sulla punta. Cioè, è veramente pazzesco. Anche le foto con la telecamera ultra grand'angolare sono spettacolari, come lo sono quelle con la fotocamera da 108 megapixel. Ma anche la fotocamera anteriore per i selfie non scherza affatto. Davvero, ragazzi, un comparto fotocamera impressionante per un telefono che viene venduto a partire da 269 euro. Nella versione definitiva in edizione limitata, Marziana, il prezzo aumenta leggermente. Vi portate a casa veramente un gioiellino proveniente dallo spazio. Comunque, ragazzi, siamo giunti alla conclusione di questo video. Questa voleva essere una recensione diversa rispetto al solito, perché di recensioni su Redmi Note 10 Pro ne trovate già a bizzeffe sul web. Ragion per cui ho voluto portarvi solamente i dettagli che mi hanno più incuriosito, mostrandovelo nella sua edizione limitata, che davvero, ragazzi, è una gran figata. Non sono voluto entrare nel dettaglio, mi sono soffermato solamente sulle sue caratteristiche principali, che come avete visto sono davvero, ma davvero molto interessanti. Quindi un dispositivo assolutamente golden approved. Detto questo, ragazzi, vi invito a distruggere il pulsante di mi piace per altri unboxing fantastici su altri telefoni incredibili come quello di oggi. Vi invito a distruggere il pulsante di mi piace per altri video incredibili su altri telefoni spaziali come quello di oggi. Superiamo i 4.000 mi piace e mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video, seguitemi su Instagram e TikTok, mi trovate con il nome di Golden Jumpy. E noi, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Da Jumpy è tutto, ora posso tornare sul Marte. Ciao a tutti. Ciao a tutti.